intanto siamo pronti la grafica ci va a indicare che il primo main event la prima finale di questa sera quella della supercross 125 così come nel caso della supercross 2 ci sarà quindi una solda finale mentre tre saranno le finali due più nello specifico le finali della supercross 1 e poi la finalissima da non perdere al termine di questa serata quella che andrà ad assegnare il titolo di re di genova con i migliori della supercross 1 e i migliori della supercross 2 ci si va ad allineare procedura consueta al cancelletto di partenza ricordiamo questa classifica stiamo parlando in questo caso degli internazionali supercross con zonta 54 punti baraiola 50 pasqualini a 38 poi c'è bonazzi a 28 in quarta posizione già più lontano anche perché torno a dire il massimo del punteggio che si può assegnare in questo caso sono 20 punti quelli che vanno al vincitore sì zonta ha dimostrato in tutto il campionato che essere molto veloce e costante ha vinto una gara l'altra gara invece è è andata a baragliolo e l'ultima invece è andata a lesiardo tra quanto la gara di milano dell'eikman quindi diciamo un vincitore per ogni gara vedremo questa sera chi sarà a dominare zonta è stato velocissimo fin dalle prove ha vinto la sua hit quindi è lui la tabella rossa del campionato è quello che potrebbe portarsi a casa il titolo stasera tabella 200 con lo squarna ci siamo 8 minuti più un giro e quindi andiamo a vedere zonta tabella 200 baraiolo tabella 20 sono i primi da tenere d'occhio naturalmente ma non solo e allora ultimi secondi si basta per partire ufficialmente lo spettacolo del 35esimo monster energy genova super cross con la sx 125 si va giù il cancelletto di partenza e subito ovviamente un imbuto strettissimo che causa le prime cadute non ci sono adesso conseguenze per i piloti purtroppo una dinamica normale può capitare ma si intanto filippo bonazzi in testa seguito da baraiolo e non vedo zonta nelle prime posizioni attenzione perché baraiolo è secondo in campionato quindi potrebbe esserci un colpo di scena e cercheremo subito di capire di aggiornarvi sulla posizione di filippo zonta perché questa è la classifica più corta solo quattro punti tra zonta 54 e baraiolo 50 considerate che nella segnazione del punteggio ci sono i 20 del vincitore i 17 del secondo i 15 del terzo quindi quattro punti si possono mangiare davvero in fretta e queste gare sono davvero fulmine anche nella durata eh sì purtroppo abbiamo visto un mucchio in partenza e probabilmente zonta era tra i piloti caduti non lo vediamo nelle prime posizioni davvero un peccato sicuramente recupererà in fretta dovrebbe essere no adesso aspettiamo magari una conferma anche della grafica quindi dovrà subito spingere c'è pochissimo tempo c'è pochissimo tempo baraiolo è in seconda posizione vediamo si andrà a cercare a cercare l'attacco anzi direi che baraiolo è ancora secondo secondo sì sì ancora secondo lo confermiamo mamma mia il terzo la scala e il quarto chanton sì tabelle 60 e 14 e qui vediamo i primi due ancora con buonazzi in testa seguito da baraiolo zonta era nono acqua sì zonta era nono sul passo del 46 ma con un distacco importante comunque già risalito in ottava posizione intanto buonazzi fa un errore sulle whoops in cura difficilissime davvero però recupera benissimo e ripassa baraiolo ha reagito baraiolo si ripropone all'interno gira stretto va a chiodere va a chiodere la porta in faccia all'avversario qui baraiolo non può andare troppo per il sottile non sappiamo francamente quanto sia cosciente della situazione del rivale diretto per il titolo vero filippo zonta ma di sicuro sa che la vittoria potrebbe essere molto molto importante determinante sì perché caso di sua vittoria zonta con un terzo posto andrebbero a pari punti se non sbaglio anzi baraiolo vincerebbe di un punto quindi zonta deve fare secondo se vuol vincere il campionato e per adesso è indietro quindi vediamo baraiolo che si guarda indietro si è voltato ma zonta lì sta recuperando fortissimo michele baraiolo con la sua yamaka si è voltato per cercare di capire se zonta era vicino o meno lo vedete in sesta posizione l'ultimo passaggio a 4 secondi e 1 ma attenzione perché alle spalle di baraiolo matt vede un gruppo molto compatto e quindi zonta potrebbe recuperare posizioni in fretta è lì è lì ne ha già superati diversi sulle wups sta recuperando fortissimo filippo è in terza posizione incredibile sulle wups ha passato tre o quattro piloti incredibile davvero la velocità di questo ragazzino che ha cambiato marca le prime gare tabella 200 aveva corso con la tm adesso invece corre con uno squarna quindi cambio di casacca attenzione sbaglia la sezione ritmica e un cambiamento di moto anche per baraiolo che anche lui ha corso le prime gare con la tm mentre eicma e la gara di genova la corre in sella naia ma di nuovo team quindi i primi due della classifica entrambi hanno cambiato modo pazzesco pazzesco e già c'è l'attacco di zonta numero 200 su bonazzi numero 771 è un sorpasso che potrebbe significare il titolo per zonta e poi non credo che si accontenterà mamma mia rischia qualcosa ma veramente viaggia il triplo rispetto agli avversari sulle wups davvero meraviglioso e poi diciamolo c'è il titolo internazionale supercross che è fondamentale ma poi vincere a genova ma è sicuramente un'altra cosa eh sì genova è una gara senza nulla togliere gli altri però insomma diciamolo è la verità questa genova e genova vale il campionato quindi vincere qua sicuramente è una vetrina bellissima soprattutto per questi giovani ragazzi che magari fino a pochi anni fa l'avevano vista da fuori adesso invece hanno la possibilità di essere protagonisti e non se la vogliono certo far scappare però zonta è velocissimo sta già recuperando superaiolo e le sue spalle forato anche molto veloce è venuto su dal gruppo e alle spalle di zonta si forato che insomma non è un abitué di questa serie però è stato bravissimo nella gara di eikma dove ha conquistato 15 punti quindi insomma pilota da tenere molto in considerazione ricordiamo che ad eikma era stato lesiardo a vincere tra l'altro morgan lesiardo pilota che è coinvolto anche nel progetto che vede protagonisti da un lato team racing dall'altro la federazione motociclistica italiana insomma si cerca di dare sostegno in maniera concreta ai nostri giovani talenti si morgan lo conosco molto bene l'ho anche seguito per un certo periodo attenzione sbaglia zonta sbagliato e forato all'interno implacabile a recuperare la seconda posizione intanto nonostante il loro duello hanno preso hanno preso baraiolo e c'è l'attacco immediato non aspetta davvero nulla forato per provare a superare il leader della gara attenzione che sulle whoops forato è molto veloce sono in tre adesso sulle whoops incredibile davvero la lotta per la prima posizione ma forato e zonta passano baraiolo forato forato e poi zonta che in questo modo cerca di mettere un sigillo anche sul titolo supercross 125 internazionali di quest'anno ahiaiai non ci voleva che peccato questa caduta eh sì forato era davvero aggressivo era passato in testa in un attimo però avrà sicuramente modo di recuperare questa qualche posizione però intanto zonta si è abbataggiato da questa situazione e nicola soave incredibile da dietro anche lui zitto zitto non ce ne eravamo accorti è venuto su ed è in seconda posizione eh sì eh sì davvero davvero veloce pensate che eh soave ha un ottimo passo sul 51 e 5 corrisponde a quello di zonta ma è più veloce rispetto agli altri piloti a parte il la dinamica della caduta che abbiamo appena visto e quindi ne ha approfittato e si è rifatto sotto ma intanto zonta ha un gran margine a questo punto deve rimanere concentrato fino all'ultimo intanto Baraiolo va indietro sì un calo per lui se è fisico di concentrazione forse anche la moto forse qualche problemino però sicuramente qualcosa è successo perché di colpo si è messo a girare molto più alto l'ultimo giro in 57 addirittura una serie di errori sicuramente poi il contatto con Forato però Baraiolo non è più incisivo come nei primi giri no 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 infatti lo vediamo beh da un lato complimenti a zonta ci dispiace naturalmente di non poter vivere questa battaglia fino all'ultimo secondo tra i due leader della classifica sì abbiamo vissuto dei momenti di gara molto belli e partiamo bene con questo supercross ragazzi è solo l'inizio è solo l'inizio non c'eravamo neanche accorti di Nicola Soave che era partito indietro e in un attimo ha recuperato ora è in seconda posizione davvero bene e terzo c'è un francesino che aveva vinto la manche di qualifica che zitto zitto anche lui era stato davvero molto efficace nel pomeriggio francamente ce lo siamo persi nelle battute iniziali però con gran ritmo Matteo è riuscito a rifarsi sotto e adesso a tiro un podio anche perché Baraiolo non era poi così vicino sì è successo un po' di tutto in qualche giro davanti e quindi i ragazzi che erano un filo più dietro sono riusciti ad avvantaggiarsi riproporsi nelle posizioni davanti Forato intanto si è ripreso è quinto si sta avvicinando a Baraiolo però Zonta davvero dopo il mucchio in partenza grande rimonta per lui manca pochissimo ormai praticamente quando basterà dal traguardo solo un giro davvero sarebbe un titolo strameritato per lui soprattutto vista la gara di questa sera sì grande rimonta grande continuità come sottolineavi prima tu di risultati in tutta la stagione mentre Suave continua a mantenere un grandissimo ritmo però non abbastanza per mettere un recupero decisamente ardito quantomeno ardito nei confronti di Filippo Zonta tabella 200 fase finale ricordiamo del Supercross 125 gara che va a segnare il titolo la bandiera Bianca sventolata dai Marshalls sta indicando da qui l'inizio dell'ultimo giro di gara per questi piloti intanto per il secondo posto ho visto in lontananza la lotta tra Soave e Pombiei intanto anche Forato è passato al quarto posto sai che Soave ha girato in 54 secondo me qualche errore o un calo repentino anche per lui mentre Pombiei in 52-5 e quindi come dicevi tu ieri è ritornato addosso proprio nel finale sì però Soave è un duro non si fa passare facilmente ho visto già oggi in qualifica ha restituito sì e cos'è successo? ha avuto mezzo contatto con il pilota ha provato a superarlo lui giustamente tiene duro e si è ripreso la posizione si è fatto sentire diciamo e adesso è ancora davanti al francese speriamo che riesca a mantenere ancora il vantaggio per qualche curva intanto Zonta e inizia qualche numero perché checker flag bandiera scacchi Filippo Zonta va a vincere Supercross 125 di Genova 2014 e questo già gli riempie il cuore di gioia ma ancora di più il titolo internazionale Supercross di categoria è suo non era cosa scontata solo 4 punti e aveva di vantaggio nei confronti di Baragliolo prima di questa gara ha avuto grosse difficoltà all'inizio ma ha rimontato che coraggio davvero bravissimo e soprattutto non era scontato dopo la partenza disastrosa un gran mucchio che magari rivedremo negli highlights e bravissimo Nicola Soave che veniamo festeggiato dal padre secondo posto inaspettato davvero bravo davvero bravo pensa che ha girato l'ultimo in 51 e 1 perché Calvin Fonviei è terzo il francese ha girato in 57 proprio alla fine mentre qui siamo passaggio dell'all shot che ci fa vedere però anche la caduta eh sì qua il crash adesso le immagini sono ferme però sicuramente moto ovunque in tutte le direzioni tranne che in quella giusta sono rimasti bloccati diversi piloti in quel mucchio vale ancora di più la Vitale di Zonta che da dietro è riuscita a rimontare lo stesso ha fatto Soave che comunque era rimasto mischiato allora la linea Claudia Baggiani a te Claudia sì dai tutto bene sono riuscito a divincolarmi bene nelle prime curve e c'è stata una caduta e sono riuscito a recuperare dopo per il resto ho recuperato sempre di più e che sono riuscito ad arrivare secondo Nicola grande emozione per te essere qui a Genova sì bellissimo sempre pubblico la pista stupendo bravissimi voi grazie a voi la linea grazie a voi grazie Claudia insomma bello carico eh Matti intanto vediamo la classifica con il quarto posto anche di Forato Sant'Andrea poi Baragliolo Pasqualini con Anzi Berto e la scala a chiudere la top ten Matt sì Nicola Soave lo conosco bene non è uno specialista del supercross e meno male e meno male stasera veramente è stato davvero bravo complimenti a lui complimenti anche a tutti gli altri ragazzi che ci hanno regalato un bello spettacolo un bel inizio di serata direi ma direi direi di sì insomma siamo partiti davvero davvero la grande si è scaldato intanto attenzione eccola qui la premiazione anche per l'all shot in questo caso tra l'altro è un premio segnato da Eicma che insomma vuole continuare giustamente a festeggiare il suo centenario e questi invece sono gli highlights che la regia di Luca Noce ci va subito a riproporre sì abbiamo visto il mucchio in partenza qua l'errore di Bonazzi che viene passato da Baragliolo e qua la sfida per il primo posto quando Baragliolo ancora era veloce poi un calo per lui strano cercheremo di capire poi cosa gli è capitato e qua la caduta di Forato che era appena passata in testa che coinvolge anche in qualche maniera Baragliolo e qui Zonta grande protagonista di questa serata e qui abbiamo Filippo Zonta naturalmente che va a festeggiare come lui sa questo doppio successo di gara e di categoria per una serata che Filippo sicuramente ricorderà molto molto a lungo dicevamo tra l'altro questo pubblico di Genova meraviglioso un pubblico molto appassionato molto caldo dobbiamo dire ma insomma anche molto molto competente questo bisogna assolutamente dirlo però ti lascio rispondere dopo perché abbiamo ancora Claudio Abagiani sì primo gradino del podio per Filippo Zonta Filippo grandissima gara per te sì sono partito non bene sono partito male poi c'è formato un gruppo la prima curva e me la sono vista brutta perché mi giocavo il campionato e il secondo campionato era nelle prime posizioni poi però ce l'ho messa tutta per rimontare e ce l'ho fatta ho finito in prima posizione vincere a Genova è emozionante sì è stato fantastico davanti a tutto questo pubblico è stato spettacolare come hai trovato la pista? la pista era abbastanza tecnica e a me piace questo tipo di piste perché si riesce a fare la differenza complimenti grazie mille grazie a voi la linea grazie Claudia complimenti ancora Filippo Matt un commento su queste parole di brutta si se l'hai vista brutta ce l'hanno vista brutta anche noi quando l'ho visto bloccato l'espressione probabilmente nella testa era anche un'altra lì per lì però insomma è stato bravo a reagire subito testa bassa ha reagito alla grande davvero bravo Filippo titolo strameritato sì davvero davvero strameritato e qui partiamo naturalmente con i podi ce ne saranno diversi devo dire che questa 125 è stata davvero entusiasmante e insomma vediamola anche come un buon viatico c'è un vivaio che comunque continua a crescere e continua a svilupparsi speriamo che ci dia anche tante belle soddisfazioni la base sicuramente per costruire campioni futuri parte da qui è fondamentale che i ragazzini fin da giovane imparino a fare supercross perché è una disciplina tecnica molto impegnativa che poi comunque ti porta a migliorare anche nel motocross quindi ben vengano queste gare queste manifestazioni dove hanno la possibilità di mettersi in mostra e di imparare molto vedendo anche i piloti più forti primo Zonta secondo Suave terzo Pionviei questo è il podio della Supercross 125 che va così anche a chiudere come già detto più volte questa stagione per la categoria naturalmente internazionale Italia Supercross e Filippo Zonta festeggia anche il suo titolo davvero strameritato sempre molto molto regolare già vantava una vittoria e due secondi posti arriva anche il secondo successo per lui e qui vedo che il pubblico si concentra pronto va ad applaudire naturalmente il vincitore e probabilmente inizia già a pensare a quello che seguirà subito dopo ovvero la prima finale Supercross 1 sì ho già visto i piloti americani che si preparavano il cancello molto carichi intanto aggiungo due parole su Zonta che correrà con Usquarna l'anno prossimo nel Team Ricci quindi sicuramente in una struttura importante che avrà gran supporto da parte di Usquarna e motivo sicuramente in più per crescere per far bene Filippo è uno dei migliori ragazzi del nostro vivaio che da diversi anni si mette in mostra e vedremo se riuscirà a sfondare nel mondo molto grosso insomma bisogna dire che Team Ricci sicuramente ha nel proprio DNA nella propria storia questa cura particolare dei giovani gliene va reso merito una metodologia di lavoro un approccio sicuramente incombinabile sì Lario è stato pilota sa come si fa a far crescere i ragazzi quindi è un bel ambiente dai Larios si sono sempre trovati bene dai ragazzi giovani ai campioni affermati quindi avranno sicuramente modo di lavorare con questo ragazzo grazie